Amoramod mi ha fatto una domanda la domanda è domanda ad Apocalisse Albertino non credi occorra sapere in che cosa esistiamo? e la mia risposta è sì, è fondamentale altrimenti ci mancherebbe un elemento determinante per poter comprendere noi stessi e i nostri fratelli conosci te stesso e conoscerai tutti gli esseri umani Amoramod aspetto che tu risponda alla domanda che io ti ho fatto ciao ciao